Ciao ragazzi, allora, quando qua c'è la presenza femminile sapete che significa video di qualità, video tecnico, economico, finanziario, perché chiaramente la mia compagna si occupa un po' di questo, tra l'altro, e quindi siamo trovati anche in questo, ma quindi non è la comparsa femminile per fare il clickbaiting, le views, queste cazzatine qua, come al solito. Sostanza, quindi iscrivetevi al canale, supportate questi video, condivideteli ragazzi, mi raccomando. Oggi di cosa parliamo? Parliamo dell'indice di liquidità e le proposte di Gravina, che è il presidente della FIGC, per migliorare il calcio italiano, sanare il calcio italiano e tutte queste robette qua. E vi spoilerò già subito cosa ne penso, sono autentiche cazzatine, cazzatine, e si vede che il presidente della FIGC è un avvocato, sì, perché gli avvocati di economia incominciano un cazzo, eccetto eccezioni, eccetto eccezioni, è così, si occupassero delle loro robe. A parte il dissing, chiaramente un po' per divertirsi un attimo, ma adesso entriamo nel tecnico, io cercherò di tradurvi un po' i tecnicismi che vi spiattellerà lei, perché chiaramente lei è il suo mestiere, io il mio mestiere è quello di divulgare, di far da tramite, no? E quindi è un po' la parte. Allora, partiamo subito dicendo una cosa. Gravina sostanzialmente ha detto che vorrebbe, sarebbe intenzionato, ad aumentare la rigidità dei parametri sulla liquidità per far sì che i club possano iscriversi al campionato italiano. Allora, spieghiamo cos'è intanto l'indice di liquidità, ok? Allora, l'indice di liquidità è un numero che viene fuori dal rapporto tra due numeri. Diciamo, sopra il numeratore abbiamo le attività a breve termine, quindi la cassa, i titoli monetizzabili a breve termine, e invece al denominatore abbiamo i debiti a breve termine. Quindi è un indice statico che ci dà l'informazione di come sta un'azienda dal punto di vista della liquidità in un certo momento storico. Però questa azienda potrebbe avere liquidità perché effettivamente ha denaro in cassa o perché magari è enormemente indebitata. Questa informazione, questo indice, non ce la dice. Ah, ovviamente, attenzione, quando dice, traduco, quando dice che un'azienda è molto indebitata ma ha grande liquidità in cassa, un'azienda è indebitata perché magari ha chiesto dei finanziamenti, dei prestiti, bond, questa cosa qui. E quindi sì, i soldi li ha in cassa perché gli ha chiesti a prestito, ma di per sé ha dei debiti pazzeschi magari, no? Potrebbero essere debiti altamente, anche quasi, quasi insostenibili a lungo termine. Cioè che potrebbero portare quasi a un collasso della società, a un fallimento. Eppure tu, dal tuo cazzo di indice, sei a postissimo, madonna, sei florido come liquidità in cassa. Certo, tu ti presi a debito per quello che l'indice di liquidità di per sé non conta a nulla. Viceversa, vi faccio capire più nel concreto, posso avere anche una società che non ha tanti liquidi in cassa, non ha proprio soldi, liquidi, diciamo, nel conto, in cassa, di per sé, ma ha zero debiti. Quindi, di per sé sarebbe facilissimo, nel momento in cui avesse bisogno di liquidità per pagare qualche stipendio in più e non ce li ha lì per lì, chiedere un prestito perché tu hai zero debiti, se sei sanissimo, ma te lo dà chiunque, un prestitino, un finanziamento, magari con tassi di interesse bassissimi anche, perché sei iper sostenibile, è uno scherzo, prenderti qualche milione a prestito, ok? Capite perché l'indice di liquidità non significa nulla? Cioè è puramente un numero, un dato che però non ti dice quello che ci interessa sapere, cioè quella squadra lì è sostenibile o no? Sta operando bene, efficiente, a livello di costi, di trend, di ricavi, oppure no? Ecco, quindi è la solita propostina un po' politica per far vedere che, ma non serve un cazzo, sono solo norme in più, ecco perché ce l'ho un po' con gli avvocati che si occupano di aziende e di economia, che imbrogliano più la burocrazia, ma non si risolve nulla. Andiamo al secondo parametro. Sì, un'altra cosa che volevo dire sull'indice di liquidità era come si potrebbe ad esempio modificare un parametro di questo tipo per renderlo un po' più sensato e anche un po' più di incentivo alle società ad essere virtuose dal punto di vista finanziario. Si potrebbe ad esempio partire ognuna con il proprio indice di liquidità, perché l'indice di liquidità non dovrebbe essere tanto un numero a cui ambire, ma dovrebbe essere un'informazione, un indice, cioè il mio termometro, quanta temperatura mi segna, come sto dal punto di vista della liquidità? X. Ok, quindi cosa potrei fare io per migliorare? Ad esempio, chiedere alle società di calcio di migliorare il proprio indice di liquidità dello 0,10% all'anno. Questo, innanzitutto, non è qualcosa di vincolante, quindi non fa sì che le società siano o dentro o fuori. Dal momento che questo indice, non essendo mai stato preso in considerazione, le società non hanno mai agito, non hanno mai lavorato per tenere questo indice sotto controllo. E poi sei di stimolo, perché le società, essendo un obiettivo raggiungibile, sono portate a starci attente e a favorire l'andamento finanziario in modo da fargli entrare l'indice nel parametro. Piccolissima nota, mettere un indice di liquidità, che non è un trend, partendo da una situazione attuale, eccetera, ma che è un numero fisso così, porta le società, quelle che non rispettano questo indice oggi messo all'oggi, porta le società o a dover fare aumenti di capitale forzati dai presidenti, oppure in grandissima maggioranza, che è una realità questa, in grandissima maggioranza i presidenti che non hanno voglia di buttare soldi a caso o non li hanno, eccetera, eccetera, fanno ulteriori finanziamenti o prestiti, quindi significa portare le società a indebitarsi, quindi non vai a migliorare la situazione, la vai a migliorare nel livello di, sì, formale, formale, ma in maniera sostanziale potresti addirittura andare a incentivare un peggioramento della situazione, quindi è proprio un disastro, farvi capire la metafora del termometro di prima, uno può avere la febbre perché ha un'infiammazione pattesca sull'intestino, è super mega, si tratta malissimo, mangia male, ha una vita malsanissima e tutto quanto, e hai addirittura la febbre che sei talmente a livello disumano, di stabilità, diciamo, no, sanitaria, che ti viene anche la febbre, tu ti prendi la tachiperina e la febbre si abbassa, ma stai di merda uguale, stai di merda uguale perché hai una vita malsana, mangi malissimo, bevi, fai di tutto, e non è che stai meglio, stai meglio, il termometrino della febbre è sceso, ok, ma sei malsano uguale, anzi, il fatto di avere meno febbre ti induce magari a mangiare ancora male, perché tanto ti è calata la febbre e ti aggravi sempre di più che in un certo punto crepi, non so se la metafora può un po' essere capita un po' meglio questo punto qua. Esatto. Andiamo agli altri due parametri. Allora, quello sui debiti non abbiamo tante informazioni, quindi non possiamo dire molto, però sicuramente inserire un indicatore sui debiti può essere qualcosa di molto utile, perché è un indice di solvibilità, quindi far capire quanto l'azienda sia indebitata, messa in rapporto con il capitale proprio e anche con la redditività può essere sicuramente una cosa utile. Ah, redditività è l'ebitda di cui si parlava l'altro giorno nel famoso video della Real Madridda, quindi casomai andatevi a pescare quel video e capite un po' cosa significa. Esatto. Mentre l'altro indice su cui è magari inserito qualche dettaglio in più sul web è quello sul rapporto tra ricavi e costo del personale. Anche questo indice è un indice poco adatto, perché? Perché mette in relazione... Soprattutto nel caso del calcio, chiusa parentesi, adesso vi spiego anche perché. Esatto, soprattutto nel caso del calcio, perché i ricavi sono una voce molto aleatoria, molto variabile, che possono essere, che possono dipendere da ad esempio accesso o meno al campionato, vittoria o meno di una coppa. Pensate, sapete no, la Champions, andarci o non andarci ti sballa di 60, 70, 80 milioni, così, pum, diretto, o quasi anche di più, se uno va avanti o non va avanti, eccetera, eccetera. Quindi solo questo, senza contare il resto, stadi, non stadi, abbonamenti, ecco, solo questo vi fa capire quanto i ricavi possono drasticamente cambiare nel calcio nell'arco di una stagione o nell'altra. Quasi in nessun altro settore produttivo abbiamo un rischio di impresa così alto a livello di ricavi. Esatto. Mentre i costi del personale sono dei costi rigidi, perché vengono abbastanza rigidi, nel senso che vengono contrattualizzati in anticipo e il contratto dura un certo numero di anni. Dei giocatori, no? Esatto. Quattro, cinque anni, tre anni. Gli ingaggi quelli sono, non è che se da un anno all'altro... Non vai in Champions. Esatto, non vado in Champions o ho una contrazione dei ricavi per un qualsiasi motivo, io posso adeguare gli ingaggi nel momento in cui mi si presenta il problema. Li potrò adeguare alla scadenza del contratto. Quindi una temporanea contrazione di questo indice potrebbe non voler significare necessariamente un momento di crisi per la società. Magari è un anno in cui quella società ha fatto degli investimenti perché ha comprato dei calciatori e ha contrattualizzato degli ingaggi. Magari quell'anno i ricavi non sono stati altrettanto floridi da poter pagare quegli investimenti, ma è un momento di investimento. Quindi magari questi costi, questi ingaggi pagati produrranno dei ricavi negli anni successivi, perché magari negli anni successivi questa rosa accederà alle Champions, magari vincerà delle coppe. Quindi mettere un vincolo da questo punto di vista vuol dire mettere alla società una camicia di forza che potrebbe non consentirle magari di fare degli investimenti e vedere poi un ritorno nel corso degli anni. Bravissima. Quindi è un po' questo. Questo cosa potrebbe provocare? Ad esempio un progressivo adeguamento e modifica delle condizioni contrattuali nel modo di determinare gli ingaggi dei calciatori. In che modo? Magari stabilendo degli ingaggi più bassi e dei bonus più alti o che si attivano nel momento in cui magari si vincono delle coppe oppure si accede alla Champions. Però qual è il problema di questa cosa qui? È che ci prechiude la possibilità di poter ambire a dei calciatori magari internazionali o comunque molto promettenti. Cioè è chiaro che se prometti a un calciatore che adesso può guadagnare sei e mezzo più bonus a chi può arrivare sei e mezzo è un po' il netto poi si arriva a sette con i bonus. Se tu gli prometti guarda facciamo tre e mezzo più tre e mezzo di eventuali bonus in base se andiamo avanti se non andiamo avanti e tutto uno ti dice no è un ricavo troppo poco sicuro e quindi va da un'altra parte. Quindi perdite di competitività e siccome il mercato del calcio è un mercato globale non è che c'è solo l'Italia e il calciomercato all'interno dell'Italia ma siamo connessi siamo in un mondo globalizzato. Altra cosa che gli avvocati mi sembra che non capiscono tanto. Ma sto adesso è un diss negli avvocati ci saranno quegli avvocati che rompono ma no come ti permettino. Amore cioè amore 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 che vabbè che dicevo vabbè insomma è una battuta state buoni state tranquilli non ce li ho con gli avvocati ce li ho con gravina che più che un avvocato è un politico praticamente e dice cose che non hanno molto senso ma vabbè. E quindi tornando a noi perdi di competitività tu sei legato anche con gli altri calciomercati con le altre nazioni se tu ti metti delle norme totalmente sballate e che ti portano a fare dei contratti che non sono competitivi con quelli che possono offrire da altre parti che già in parte così lo vai addirittura a peggiorare tu stai facendo il male del calcio italiano perché non lo stai facendo evolvere sviluppare non gli stai facendo prendere competitività gli stai facendo perdere ancora una volta ancora per cosa? per fare la fotografia bella da scattare e ma vedi con la liquidità siamo a posto per tutelarti da qualche gossip da qualche scandaletto non so perché così non c'è la squadra che non pagano se vende quel giorno quell'anno lì ce ne sono cose politiche ma che a livello tecnico a livello veramente aziendale non sono efficaci è per quello che anche il calcio italiano non crescerà mai se si fa se si se si lavora in quest'ottica qua e non in quello del sviluppo della crescita. mi ricordo se volevi andare alla conclusione o se posso direttamente fare questo esempio. Sì no è fatta la conclusione un po' questa che sono degli elementi di rigidità che non sempre si inseriscono in un contesto di medio e lungo termine in un contesto di tipo progettuale ma vanno ecco a compartimentare la situazione in un certo momento e non danno respiro alle società di poter crescere e migliorare. Sì è un po' questo e dicevo prima degli avvocati perché in realtà ho letto anche che si vuole sostituire il prossimo presidente la fisica eccetera quanti nomi di personaggi che arrivano dalla politica o nominati più o meno dalla politica o altri avvocati e cose così. E questo è un settore che è aziendale che è imprenditoriale e ci sarebbe bisogno un po' più di un tecnico in quella posizione lì che fa cose che abbiano senso per un settore economico che deve crescere. E non leggi aggiuntive cioè non è che che si può creare lo sviluppo economico attraverso sempre la legge con i decreti legge continui che vanno a bisogna avere una una visione a 360 gradi capendo anche il mercato le logiche del mercato non del calcio mercato il mercato senso dell'economia in generale dei rapporti che hai anche con gli altri paesi con gli altri settori eccetera eccetera. E capire che bisognerebbe spingere sulla crescita del calcio italiano se il calcio italiano cresce crescendo quindi anche i club perché possono investire di più hanno più infrastrutture possono farsi questi cazzo dei stadi aumentano gli ricavi in maniera reale e non fittizia reale perché hai più bacino hai più merchandising hai più sponsorizzazioni hai più accordi i diritti tv valgono di più c'è più spettacolarizzazione anche del calcio è più divertente c'è più innovazione è più innovativo è più internazionale ci sono le infrastrutture gli stadi tutto questo fa crescere la torta generale e se il calcio è sostenibile e diventa più florido la liquidità ci sarà per forza cioè è la liquidità è un indicatore che alla fine è un effetto di una situazione se tu la situazione la stimoli a crescere non devi neanche fare la legge sulla liquidità perché ci sarà se i club sono più floridi crescono di più hanno il doppio raddoppio nei ricavi perché possono investire fare non hanno mille laccetti le giuncole burocratia casini la politica che si mette attraverso tutte queste robette qua o leggi cretine che non sto qua neanche a nominare ma tanto qualcuno può immaginare forse anche di recente lo vediamo le percentuali per tutti queste cose se avessimo le cose che funzionino in maniera positiva e ci fosse una crescita la liquidità ci sarebbe in casa i club perché avrebbero comunque bilanci un po' più efficaci un po' insomma più sostenibili e di conseguenza non ci sarebbe bisogno di indebitarsi all'infinito per essere competitivi o di avere le leggi che ti impongono la liquidità eccetera ovviamente parte della responsabilità anche del calcio italiano un po' così è anche delle società è anche dei club perché molti club e molte società sono gestiti di merda perché abbiamo una visione imprenditoriale in Italia che è molto retratta che è molto molto cioè non è a livello di un grande paese quindi la stessa cosa è la classe dirigente che ci rappresenta come quella del calcio cioè alla fine quello è il problema ragazzi non so se ci siamo spiegati però io quando sento queste questi parametri queste proposte vuol dire che non ci siamo ancora non ci siamo perdiamo tempo gli altri vanno avanti di tre noi andiamo avanti di mezzo e alla fine il gap è sempre più alto e quindi mi incazzo ecco perché un po' il dissing la battutina ragazzi tanto ci capiamo però c'è bisogno di altro qua eh esatto io direi la legge abbiamo detto che non può mai essere in realtà uno stimolo alla crescita però la legge se usata male può essere un ostacolo alla crescita brava hai sintetizzato in maniera molto meno colorita di nema insomma quindi questa è un'altra situazione in cui la legge potrebbe diventare un ostacolo quindi speriamo che non sia così ma sì un ostacolo o una bandierina con cilindri le levità quindi hanno le scioglie in casa ok non significa nulla non significa assolutamente nulla attendiamo le proposte nel dettaglio sul discorso che hanno detto sui debiti i costi ricavi per vedere più nel dettaglio cosa intendono sperando che ci sia un'illuminazione che guardano il nostro video e dicono ah cazzo non capiamo un cazzo di economia aspetta che chiamiamo un tecnico magari un economista qualcuno che ci dà un'azienda lista ancora meglio che ci spieghi due tre robe invece di fare cose politiche perché è tutta roba politica questa roba qua io la chiamo roba politica perché sono bandierine cose simboliche cose per facciamo questa cosa che così non si crea lo scandalo della squadra che non ha pagato gli stipendi che è brutto che ci porta brutta figura quindi non lo vogliamo però intanto poi succede che vai comunque al fallimento ma fra anni è tutta la logica del breve termine cioè robe che mi hanno rotto i coglioni francamente ragazzi vi saluto vi salutiamo ci vediamo stasera ah sì ci vediamo madonna non ho anche detto prima ci vediamo stasera su twitch che commentiamo eh sì fra un'oretta e mezza quasi che c'è juventus e torino c'è il derby di torino e quindi chi vuole ci trova lì mi sono dimenticato di dirlo all'inizio e saranno i soliti pochi guardano fino alla fine i pochi ma buoni ci saranno pochi ma buoni ma ci saranno ci saranno che sono i migliori perché rimangono fino alla fine ascoltano sanno che il meglio a volte arriva alla fine quindi hanno pazienza ascoltano danno fiducia bravi bravi ragazzi lungo termine no brave termine come gravina gramigna ragazzi vi salutiamo a dopo e insomma forza inter ma forza anche un po un calcio che guarda un po più in là e che cresce soprattutto tutto